Siamo dal Solur, torneo del Paddle League Cup con le maglie dei cacciatori, torneo di beneficenza da Onlus Tessino e al fine finita la partita terbi-tai due inter sono ottimo. Grazie a voi per l'invito. Come stanno andando le partite? Benissimo. Siamo riusciti a vincere una dopo quattro però... Sempre dal Solur, torneo di beneficenza, siamo qui con il Pombo Nera che oggi vestono le maglie della Santa Catatana. Grazie a voi ragazzi per partecipare sempre a questo dei tornei su Artiki Beneficenza. Come stanno andando le partite? Benissimo. Abbiamo vinto due partite ma la vittoria più grande penso che l'abbiamo fatta facendo beneficenza dalla Onlus Delfino quindi se c'è beneficenza c'è sport, c'è amicizia, c'è compagnia. Vi ricordiamo che con loro andremo a Madrid. a Madrid vediamo con tutto il cuore. Sono il padel Juventus-Napoli, siamo con Michele Pielangeli e il maestro Gonzalo Peon. Simone e Pietro, grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Per la maglietta che non ci entra. Santissima partita. Spocca tu, sono favoriti loro. Grazie. Grazie. Questi eventi sportivi sono belli per lo sport ma soprattutto quando la finalità è quella di aiutare delle persone un po' più bisognose. Sì, per me non esiste, poi sempre di dare un trauco che è sempre un piacente. Vuol dire che questa è un attivo sport simpatica, dinamica, piacevolissima. Quindi grazie mille. Il presidente Sebastiani per una maestrosione. Grazie. 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 Ok. Vi saluto con i maini Buon figlio, buon figlio. Simentico, community,amamico. Buon figlio, buon figlio, buon figlio,atuosici, Anna внимание.